Ok, vediamo oggi il contenuto di tutti. Abbiamo visto un integrale indefinito, vediamo quello definito. Quindi abbiamo preparato le plazze di guardo con la lavagna. Le motivazioni per utilizzare e affrontare questo prezzo sono tantissime. Diciamo che la più semplice è la seguente. Può essere in consiglio, in molti frangenti, in molte circostanze, calcolare la superficie sotto, o l'area, come si voglia, sotto una data funzione. Cioè, siamo interessati a calcolare quanto vale la parte di piano racchiusa da questo rettangoloide, o aree mistiline, alcuni lati sono dei segmenti, altri sono delle curve. Questo tipo di problema, che si incontra molto spesso, conduce al concetto di integrare definite, che è un numero interpretabile come un'area. In parte questo problema l'abbiamo già visto quando abbiamo lavorato sui limiti notevoli. L'area del cerchio viene calcolata, approssimandola, per eccesso o per effetto, con dei poligoni. Abbiamo visto che il limite notevole, se inizi su x, ci comincia a calcolare l'area del cerchio. E il metodo, che sta alla base di questo, è un metodo molto antico, III secolo a.C., ma, ahimè, senza il concetto di limite, il metodo di esaustione o di esaurimento. Si esaurisce o si ricopre quest'area, approssimandola con dei, tra virgolette, poligoni semplici, di cui sappiamo già calcolare. In realtà, in caso specifico, dei rettangoli. Vi spiego meglio. Vi faccio il disegno. Supponiamo di avere a che fare con questa funzione. Qui ho A e qui ho B. Siamo interessati all'area sotto il grafico di x uguale a f di x. Diciamo che f continua. Ok? Allora, supponiamo di calcolarla mediante approssimazioni successive. In che modo? Beh, suddividiamo la base di questa figura mista, quindi il segmento AB, in tante parti. Ok? A aumentare di n, la prossimazione migliorerà. Quindi, prendo gli estremi di questo intervallo, che coincideranno il primo con l'estremo inferiore dell'intervallo, A, e l'ultimo con l'estremo superiore. Quindi, prendo l'intervallo I, l'intervallo fuso di metà qua B, e lo divido in n parti. Ok? Attraverso 2, 3, 10, 20, 1 milione. È tutto chiaro? Quindi, ne costruisco un insieme, che chiamerò x con i, di punti che danno gli estremi degli intervalli. Ok? Per esempio, x con 0 è A, x con n vale B. L'estremo 0 è A, e l'ultimo è B. Quindi, se tutto l'intervallo è ampio B-A, ogni intervallino sarà ampio B-A fratto n, e questo lo chiamiamo delta x, cioè l'ampiezza di ogni singolo intervallino. Tanto è maggiore il numero degli intervalli, tanto più piccola è la base, è la larghezza di ogni singolo intervallino. e su questo costruiamo un rettangolo, forse era meglio qua, ecco. su ogni uno di questi costruiti, su un rettangolo, che intersaca la funzione, ok? In questo intervallino del test, prendo il valore minimo che ha la funzione lì dentro. questo è M con i, cioè il minimo della funzione nell'intervallo che mi interessa. nel primo avrà un valore, nel secondo ne avrà un altro, e via di certo. D'accordo? Quindi, per esempio, qui avrò questo, qui ci sarà questo, qui è quest'altro, qui è quasi lo stesso, e così via. E quindi, in giallo, qui ho l'area, posso calcolare l'area di questo rettangolino, che ha come base la lunghezza delta i, che è b meno a, fratto n, e come altezza il minimo della funzione in quel punto. So che c'è il minimo, perché? Perché la funzione è continua, in un intervallo chiuso e limitato, quindi almeno sicuramente il minimo è massimo. So che quello esiste. Ok? Questa strisciolina ha una superficie, s piccolo con i, superficie della diesima strisciolina, che vale la base delta x, l'altezza è m con i. Quindi è base delta x per l'altezza m con i. tutto chiaro? Quindi, ripeto, però adesso ho bisogno di un altro foglio. Fatemi ripetere. Prendiamo in considerazione l'intervallo coperto dalla zona che ci interessa, potete calcolare l'area, lo dividiamo intanto in piccole parti. e approssimiamo la nostra superficie come tante striscioline fatte da rettangoli. Tanto maggiore il numero delle rettangoli, tanto migliore sarà l'approssimazione. Ok? E chiamiamo s piccolo con i, l'area di ogni singola strisciolina. certamente non saranno tutte la stessa, no? Saranno stessioni diverse, avranno aree diverse, che è data dalla base, delta x, per l'ordinata che è il minimo della funzione nel punto dell'intervallo i. i è un numero d'ordine, se i è uno è il primo intervallo, se i due è il secondo intervallo, se i tre è il terzo intervallo e via dicendo, fino all'ultimo. D'accordo? Eventualmente possiamo anche indicare n con i come, sempre conseguenza del teorema sulle funzioni continue, il valore della funzione in un particolare punto, nel punto di minimo dell'intervallo i. Sappiamo che la funzione assume, almeno una volta, tutti i valori tra il massimo e il minimo. Quindi corrisponderà alla f in un particolare punto, che potrebbe essere un estremo oppure un punto intermedio, non importa, il punto di minimo. Ok? Dopodichè, per avere l'area però, devo sommare tutte queste striscioline. Quindi avrò la superficie S piccolo, che sottostima quindi l'area reale, dipendentemente dal numero n di punti che ho utilizzato. Quindi S piccolo n sarà la somma di tutti i termini del tipo SI. Quindi S1 più S2, fino a SN. Primo intervallo, secondo intervallo, fino all'ultimo. Per indicare una somma ripetuta, si utilizza questo simbolo, la S maiuscola, che sta per sommatoria, la sigma maiuscola. e sommo che cosa? Tutti i termini della somma sono fatti così, sono gli SI, con I che va da 1 a n. questo simbolo significa sommo, e ogni addendo della mia somma ha questa espressione SI, e l'indice I va da 1 a n. su tutti i termini della mia lista, se volete. posso esplicitare l'ISI e scriverlo come M, I per D, 30X. E lì è il minimo I. Ok? D'accordo? Per come è fatta questa somma, sarà sempre una sottostima dell'area. Qualunque n io utilizzi, 10 intervalli, 20 intervalli, 100 intervalli, 1000 intervalli, la superficie SN sarà sempre inferiore alla superficie S vera. Quella che voglio, no, l'abbiamo calcolata A. mi fanno l'area. E' excelente. Perché l'ottengo da rettangolini costruiti sui minimi, quindi che sottostimano l'area. Ok? Posso fare una cosa analoga prendendo non il minimo ma il massimo, cioè prendendo in ogni intervallo il rettangolo che approssima per eccesso l'area. Basta che in ogni intervallo l'ordinata, se che prenderla come il minimo la prendo come il massimo. Quindi avrò una S grande con il D, che sarà la sommatoria sempre unita 1 a n dei massimi in ciascun intervallo per l'ampiezza di ogni intervallo. E in questo caso S grande con n sovrastima l'area. c'è un'approssimazione per eccesso mentre S quinto era per effetto. Ok? E' tutto chiaro? Perché è costruita sui massimi. D'accordo? Ora, fatemi rifare un altro disegno. In teoria dovrebbe essere uguale a 2. Se io prendessi un solo intervallo ok? Se n fosse 1 questa sarebbe la mia S piccola con 1. Giusto? Prendo un solo intervallo e ho la stima basata sul minimo della funzione questo è A e questo è B mentre quella basata sul massimo è quella con il più l'area verde. però sicuramente in conclusione questa è S grande con 1 perché è stata stimata per eccesso utilizzando il massimo. Se io aumento il numero di intervalli da 1 a 2 ok? S2 cambia con questa spessolina più questa. quindi rispetto a S con 1 cioè l'area ottenuta con un solo intervallo l'area ottenuta con due intervalli è più grande o più piccola? più grande. perché in più ha questa parte so se potete vedere. Tuttavia tutte e due sono sempre inferiori ad A quindi aumentando n le stime S piccolo crescono ma sono sempre superiormente limitate. l'area vale questa per ogni n inoltre aumentando il numero di intervalli S n è sempre inferiore a S piccolo scusate n più 1 aumentando aumentando il numero di intervalli e le aree S piccolo sono una stima monotona crescente ma superiormente limitata. c'è un teorema che ci può dimostrare ma non lo faremo qui che dice che se ho una sequenza di numeri e la sequenza è monotona cioè ogni numero è maggiore del precedente ed è superiormente limitata necessariamente questa successione converge cioè esiste il limite per n che tende a infinito di S piccolo con n e quale sarà questo limite? l'area non solo l'area ma lo stesso limite che è l'area A che ci interessa misurare è anche dato dal limite per n che tende a infinito di S grande con n cioè delle stime per eccesso della nostra approssimazione con rettangoli ok? questo è un numero reale se circolare in questo modo sommando l'area di n rettangolini e facendo tendere n a infinito ottengo un numero cioè ho una successione di approssimazione che converge e il limite della successione cioè il limite di questo modo per calcolare di area prende il nome del limite fatemelo scrivere in dettaglio quindi esiste definita il limite per n che tende a infinito di della somma suite a 1 a n delta x per il minimo della funzione dell'esimo intervallo che è uguale al limite per n che tende a infinito della somma delta x per il massimo e questo prende il nome di integrale definito di f di x di x tra a e z attenzione attenzione sulla s di integrazione ci sono i due estremi di integrazione cioè calcolare tra a e b in questo senso il limite indefinito era privo di estremi ora qui è chiaro da dove viene il delta x cioè di x diventa infinitesimo perché il delta x è b-a su n se n è diverso questo è un infinitesimo tende a 0 ecco perché ho il differenziale in x differenziale in x è un infinitesimo che viene esattamente da qua inoltre la m grande e la m piccolo non sono altro che valore della funzione in particolari punti se l'ampiezza di ogni intervallo diventa piccola questa è il valore della x che è il centro di ciascun intervallo di ampiese infinitesima più piccoli sono gli intervalli più il massimo e il minimo sono lo stesso punto questo numero questo limite attenzione l'integrale definito è un numero prende il nome questo limite prende il nome di integrale definito della funzione f di x in dx tra a e b e potete immaginarlo come l'area della funzione sottrappi sottrappi ok tutto chiaro? quali sono le proprietà quali sono le proprietà di questo oggetto? non 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 questo è ho specificato il limite x x la prima proprietà che è la più banale di tutte è questa se gli estremi di integrazione coincidono quindi proprietà se io intendo se io intendo da a ad a che cosa ottengo? se i due estremi di integrazione coincidono andate a vedere il limite questi due numeri sono uguali la loro differenza è qualunque cosa per 0 fa 0 l'integrale definito tra due estremi che coincidono è nulla ok non solo prima proprietà ho praticamente perché ho un rettangolo di base nulla qualunque sia l'altezza la base è 0 l'area è 0 ok seconda proprietà abbiamo calcolato l'area integrando da a a b quindi ho b meno a se inverto gli estremi che succede? beh se inverto se il primo l'estremo superiore è quello che viene per primo e quello che sta sotto per secondo se questo è l'inverto questo cambio è diverso il segno quindi l'equivale a invertire il segno dell'integrale cambiare gli estremi di integrazione significa cambiare il segno del risultato quindi attenzione l'integrale definito è sì interpretabile come un'area ma l'integrale definito ha un suo segno può essere negativo è un'area tra virgolette orientata come se la funzione sta sotto l'asse di lei se la f è negativa l'altezza del rettangolo è negativa l'integrale definito ha un segno negativo ok cambiare gli estremi cambia il segno terza proprietà consumiamo tre punti A B e C sarà B quindi l'integrale tra A e B della funzione posso pensarlo come l'area tra A e C più quella tra C e B posso spezzare l'intervallo di integrazione in due parti l'area che trovo l'integrale da AB è la stessa che trovo l'integrale prima da AC e poi da C attenzione questo è vero non solo se C sta tra A e B anche se C sta fuori che se vado da A a C e poi torno indietro l'area tornando indietro è negativa quindi questa relazione vale qualunque sia C non solo se C sta tra A e B che non che 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 quale proprietà analoga, del tutto analoga, anzi se questo sarà più chiaro per un attimo, alla proprietà dell'integrale indefinito. Anche questo è un operatore lineare. Se integro k volte una funzione è come fare k volte l'integrale della funzione stessa tra gli stessi limiti, ovviamente. E l'integrale di due funzioni tra gli stessi limiti, f di x più g di x è come fare la somma dentro un integrale tra gli stessi limiti. Anche l'integrale indefinito è un operatore lineare. Ok. Altra coppietà, alcune le vedremo un po' più avanti. Questa ve la spisco che mi serve su. Se la funzione è che devo integrare una costante, la sua grafica è una rete orizzontale. Ok. Quindi l'integrale tra a e b di k di x, quanto misurerà, quanto vale questa area. Se la funzione è costante ho un vero e proprio rettangolo. Base per l'altezza. K volte b-a. Qua non ci sia K. Ok. Detto questo, questo. Arriviamo al primo giorno. Facciamo del borloc medio. Abbiamo visto uno per le derivate, ce n'è uno per gli integrali. Sia y uguale a f di x continua nell'intervallo chiuso e limitato a b. F di x è una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato. Ok. Allora, tesi, esiste un C convenuto in D, cioè un punto all'interno di questo intervallo per il quale vale la seguente proprietà. L'integrale tra a a b della funzione f di x, quindi x, vale il valore della funzione in C, f di c, per b-a. F di c viene detto valore medio della funzione in a b. di dimostrazione. Prendiamo il punto che in generale non ci sarà costante. e quello sia a b. Siccome la funzione è continua in a b, allora posso applicare tutte le proprietà della funzione continua, cioè esistono m piccolo ed m grande tali che m piccolo è minore o uguale di f di x, minore o uguale di m grande qualunque sia x. Quindi la funzione non assume valore minimo e valore massimo. E' eliminata. E' eliminata. E' eliminata. un punto in generale. E' eliminata. E' eliminata. E' eliminata. E' eliminata. E' eliminata. questo e' eliminata. E' eliminata. E' eliminata. E' eliminata. E' eliminata. E' eliminata. Il massimo, cioè tecnicamente prendo questa diseguaglianza e integro ogni funzione, l'area sotto il minimo è più piccola dell'area sotto la funzione che è più piccola dell'area sotto il massimo, ok? Ma abbiamo appena visto che se ho la funzione integrante è una costante, questa vale M piccolo per B meno A e questa vale M grande per B meno A. È un retangolo base per T. Quindi posso dividere tutti questi tre termini di equazione per la base B meno A e ottengo M piccolo minore o uguale di integrale da AB di F di su B meno A minore o uguale di M grande. Quindi ciò che c'è in mezzo è un numero che sta tra il minimo e il massimo. Ma siccome la funzione è continua assume almeno una volta tutti i valori tra il massimo e il minimo, compreso questo. Quindi siccome F di E continua su AB, allora esiste almeno un C in AB tali che F di C assume almeno una volta tutti i valori tra il massimo e il minimo. In particolare ci sarà un C dove F di C vale il numero che abbiamo appena calcolato, perché anche quello è stato fatto il massimo e il massimo e il minimo. È sufficiente moltiplicare per B meno A e abbiamo la testa. L'integrale da AB di F di Dx quindi Dx vale F di C per B meno A. di B meno A b meno A e abbiamo la testa di B meno A e abbiamo la testa di B meno A e abbiamo rivedremo più volte. Facciamo ancora un passetto. Consideriamo la funzione S piccolo di X tra A e B continua e prendiamo la parte di area compresa tra A e X, questa. Anziché tutta quanta questa, andiamo a considerare questa parte che sta in piaccia. Cioè l'integrale da A a X, B, ora la variabile di migrazione non posso chiamarla X perché X è il mio estremo. La chiamo in qualunque altro modo. C'è una variabile muta, quella sparisce, perché alla fine l'integrale definita è un numero. La funzione F è la stessa, cioè questa, ma tra A e X. Questa funzione prende il nome di funzione integrale. Qua mi serviva allo sfondo quel pane tagliato con le spieghe di grano, eccetera, ma non ce l'ho. Cioè, se ho la funzione Y uguale a F piccolo di tra A e B, continua tra E B, la funzione che ottengo l'integrante F piccolo tra A e X si chiama funzione integrale, prende il nome di E. Un'integrale con la F maiuscola. D'accordo? Vediamo se possiamo iniziare la prossima giornata. D'accordo? Vediamo se possiamo iniziare la prossima giornata. è un tema fondamentale del calcolo integrale o indiferenziale è un tema di Torricelli Torricelli allievo di Galileo parlo insegnante di Newton speriamoci la seguente cosa se x è uguale f di x continua su intervallo AB allora la funzione integrale f di x è una primitiva di f piccolo cioè la derivata di f grande è f piccolo cioè derivo l'area o derivo la funzione giù con la palle c'è la questo è facile dimostrare perché lo rifacciamo adesso mi rendo conto che sto correndo ma questo è l'ultimo punto calcoliamo la derivata la derivata di f di x vale il limite con delta x che tende a 0 di f di x più delta x meno f di x su delta x concursi preferite per non confondere con delta x quindi prima passiamo insieme questa definizione è fatta ok andiamo a vedere f di x f di x più h intendendo che x e x più h sono entrambi momentini qui c'è a qui c'è b qui c'è x qui c'è x più h allora questa in giallo è f di x quella in verde è f di x f di x è l'area tra a e x f di x più area di h è l'area tra a e x più h un punto un pochetto più avanti quindi f di x più h è l'area tra a e x più h di f di t quindi mentre f di x è l'area tra a e x della stessa funzione se ne faccio la differenza potendo non le ho fatto altro che copiarle però questo meno posso utilizzarlo per scambiare i due termini di integrazione questa diventa da a a x più h f di t di t più l'area tra x e a di f di t di t ma se ricordate una delle proprietà viste dell'integrale la somma dell'integrale da a a x più h è da x ad a l'estremo di primo integrale è l'estremo superiore del secondo questa vale l'integrale da x a x più h di f di t di t geometricamente l'area vera meno l'area gialla è l'area tra queste due fettine ma questa teorema della media è f di c per h dove c è dentro x e x più h se divido questo per h i due h vanno via e se h tende a 0 c tende a x e quindi la derivata di f di x è uguale a x lo rifacciamo sicuramente grazie per la pazienza ci vediamo prossimamente perché h è l'angolista dell'intervallo attorno a x è se ha che è l'intervallo attorno a x viene da u 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